Oggi parleremo dello scetticismo che insieme allo stoicismo e all'edonismo di Epicuro si inserisce nelle tre scuole, nelle tre grandi scuole che avranno enorme successo dopo le grandi filosofie di Platone e di Aristotele. Lo scetticismo, come ben sappiamo, ha come fine il mettere in dubbio ogni verità. Non esiste più un sistema, non esiste più un impianto filosofico che permetta di raggiungere la verità. E questo lo scettico se ne accorge in quanto vede che tutti i sistemi prima o poi arrivano a contrapporsi tra di loro. Non c'è mai un'unità, non si raggiunge mai la piena verità. Ma lo scettico ha una particolarità, non mette in dubbio la verità, perché per lo scettico la verità esiste, c'è, ma mette in dubbio la capacità che l'uomo ha di raggiungere questa verità. L'uomo non può domandarsi intorno ai fenomeni, intorno al proprio mondo, dandosi una risposta, perché i suoi sensi sono troppo limitati. È una creatura con troppi limiti per riuscire a capire, a raggiungere la verità. Quindi lo scettico non nega il fenomeno, non nega la realtà, ma nega semplicemente che questa realtà si possa spiegare. Ci sono tre grandi scuole che analizzeremo in questa lezione a grandi linee che fanno la storia dello scetticismo e che danno un'impronta allo scetticismo per tutta la storia del pensiero antico. La prima è la scuola di Pirrone, la seconda è la scuola dell'Accademia e la terza è il gruppo più o meno coeso, che prende il nome di scettici posteriore o gli ultimi scettici della storia del pensiero antico. Ma partendo dalla prima scuola, la scuola di Pirrone, vediamo che Pirrone, che è un personaggio molto interessante, nasce nel 365 a.C. e quindi è un personaggio che risale alle origini del pensiero antico, classico. E Pirrone è il primo a creare una scuola in cui si sostiene che la verità non è raggiungibile. Non ci sono cose vere addirittura dal punto di vista dell'uomo. E Pirrone arriva ad insegnare ai suoi discepoli, perché non lascia scritti, ma arriva ad insegnare ai suoi discepoli che quando un uomo dice questa cosa è bella, questa cosa è brutta, questa cosa è buona, questa cosa è malvagia. Non si può attribuire questa cosa all'oggetto in sé, ma è semplicemente l'uomo che dà un valore a quell'oggetto, che decide di dargli un valore, perché l'oggetto in sé non ha nessun tipo di valore. E allora il saggio deve imparare una tecnica che in greco antico prende il nome di epoche, cioè sospensione del giudizio. Davanti, se interrogato il saggio, se interrogato il filosofo, il filosofo deve rifiutarsi di rispondere, deve sospendere il giudizio, perché non può sapere se quella verità è una verità ultima. Il saggio in ogni modo deve evitare di prendere posizione, di esprimere delle verità che possano risultare dogmatiche, che possano risultare decisive, fisse. E questo è un percorso, però non si raggiunge subito, è un percorso che il sapiente deve imparare a raggiungere. E una volta che avrà raggiunto l'epochè massimo, la sospensione del giudizio massimo, allora subentrerà nel sapiente la tarassia, cioè l'imperturbabile serenità della mente, quella che viene chiamata la pace interiore. Vorrei ricordare che Pierrone fu un sapiente che visse alla corte di Alessandro Magno e lo seguì nei suoi viaggi in Oriente, ed entrò in contatto anche con la sapienza degli antichi, la sapienza indiana, la sapienza orientale, e quindi mutuò probabilmente da loro l'idea di una pace interiore che la sapienza deve permetterci di raggiungere. Il secondo periodo di fioritura dello scetticismo sarà quello che riguarderà l'Accademia. Ebbene sì, l'Accademia è proprio la scuola fondata da Platone, che probabilmente pensatore più lontano dallo scetticismo non ci poteva essere. E invece dopo la morte di Platone l'Accademia ebbe vari direttori, ebbe varie guide che gli impressero di volta in volta il proprio modo di pensare, il proprio pensiero. E qui vediamo, c'è un grande di questi maestri che si chiama Arcesilao. Arcesilao non lascia scritti e continua a sostenere, riprendendo le teorie di Pierrone, un epoché senza limiti, una sospensione del giudizio che doveva riguardare tutti gli aspetti della nostra vita. Arcesilao criticherà sempre le altre utile filosofiche per fargli vedere semplicemente che non si può esprimere nulla di vero, che addirittura arriverà a sostenere, che non si può neanche dubitare di ignorare. Quello che addirittura aveva sostenuto Socrate, sfuggire la doppia ignoranza, il male dell'uomo è non sapere di non sapere, quello è il vero male dell'uomo, che l'ignorante pensa di sapere. E invece Arcesilao dice, non si può neanche dubitare di non sapere, addirittura proprio arriviamo a pensieri complessissimi, non possiamo neanche dubitare di non sapere, dice Arcesilao. Cioè, magari siamo sapienti, ma non lo sappiamo neanche perché è proprio il pensiero scettico, dobbiamo mettere in dubbio tutto, anche la nostra ignoranza dobbiamo mettere in dubbio, non possiamo essere certi di nulla. E allora Arcesilao usava questo spediente, potremmo dire, simpatico, per farci vedere come noi non possiamo essere certi di nulla, come la nostra vita è sospesa nel vuoto. E allora come possiamo guidare la nostra vita, la nostra vita pratica? La guidiamo attraverso un processo, un termine che in greco antico si dice euloghia, cioè il buonsenso. La nostra vita pratica, le nostre azioni, la nostra vita quotidiana deve essere guidata dal buonsenso, dalla ragionevolezza. Senza aspettarci il disvelamento di chissà quale verità dobbiamo accontentarci, dobbiamo perseguire la nostra vita. Ma c'è un altro maestro, Carneade, che arriva dopo Arcesilao e che continua a indirizzare l'Accademia, una volta appartenuta a Platone nel senso dello scetticismo. Carneade è il primo degli scettici a rifiutare l'epochè, a rifiutare la sospensione del giudizio e a sostituirla con un altro espediente. Se i vecchi filosofi, i filosofi dogmatici, i filosofi che pensavano di raggiungere una verità, ragionavano pensando di fare le proprie scelte attraverso un criterio di verità, che ovviamente per Carneade è irraggiungibile, lo scettico deve ragionare in base a un criterio di credibilità. E cioè deve far finta, deve fare come se le cose più credibili fossero anche quelle vere. Quindi deve fare e orientare le proprie scelte in base alle sue rappresentazioni persuasive e quindi in base a ciò che più si avvicina appunto al vero. E poi arriviamo agli ultimi scettici, agli scettici posteriori. Questi sono una serie di tre scettici che vanno dal primo secolo avanti Cristo fino al secondo secolo dopo Cristo e che continueranno in questo senso. Abbiamo due filosofi che non tratteremo oggi, Agrippa e Nesidemo, che sono filosofi scettici che si preoccuparono di perfezionare quello che abbiamo già detto per Pirrone e per gli altri scettici. Mentre c'è un grande filosofo scettico che non era filosofo, ma bensì matematico che prende il nome di Sesto Empirico. Di Sesto Empirico ci sono rimaste due grandissime opere, Schizzi, Pierroniani e Contra i matematici, che sono la summa di tutto il pensiero scettico dell'antichità. Sesto Empirico ha raccolto il pensiero scettico e l'ha condensata in queste due opere. Qui Sesto Empirico distrugge i suoi avversari, distrugge tutti coloro che ritenevano che la verità fosse raggiungibile attraverso il metodo della deduzione e dell'induzione, ad esempio Aristotele. Arriva ad attaccare il concetto di causa, come vedremo era presente in tutti i filosofi sistematici come Platone e Aristotele. Oppure, alla fine, arriva ad attaccare addirittura la teologia stoica, quindi addirittura contro gli avversari stoici arriverà a muoversi. Sesto Empirico arriverà anche a parlare di come il saggio, come il filosofo scettico debba condurre la sua vita, la vita pratica, le azioni di tutti i giorni. E Sesto Empirico, da buon medico, ci dirà che la natura e il mondo ci offrono quattro guide. Le indicazioni che la natura dà all'uomo attraverso i sensi, i bisogni del nostro corpo, la tradizione delle leggi della nostra civiltà e dei costumi della nostra città, del nostro mondo di provenienza. E infine le regole che governano il mondo delle arti. In base a queste quattro grandi guide dovremmo orientare la nostra vita, la vita pratica, il saggio scettico deve orientare la sua vita. Se vi è piaciuta questa lezione, se vi è piaciuto il mondo scettico mettete un like e magari commentate con i vostri pensieri o se esigete qualche spiegazione in più. Noi ci sentiamo con la prossima lezione. Grazie mille.